Buonasera a tutti, in questo video volevo precisare delle cose. Alcuni hanno pensato, ma sei musulmana? Beh, in realtà sì, però non nel senso classico, ovvero la vera sha'ada, ovvero la professione di fede che dice non c'è altro Dio che Allah, Muhammad, l'ultimo profeta, e Gesù il suo Messia, l'Arcangelo Michele, il primo creato da Dio. Questa è la mia fede. Io sono sicura che attraverso tutti gli scritti viene promesso quello che è il Regno del Messia, che sarà ereditato, come scritto nel Corano, dai Timorati, nella Sura 19, anche nella Sura 54, al Camar, la Luna, dove è detto ai versetti 54 e 55, i Timorati saranno tra Giardini e Ruscelli, in un luogo di verità presso il Re Onipotente. Quindi, i giorni sono brevi, i segni dell'ora ci sono già tutti, basta vedere ciò che sta accadendo nel mondo. Presto, come è scritto nella Sunna del Profeta, il sole sorgerà da occidente, allora le porte del pentimento si chiuderanno. Questo è un invito alla vera conversione, a pronunciare la vera sha'ada del vero Islam, che è quello che seguo io. Che Dio vi benedica e il suo Messia sia sempre con voi. Convertitevi, credete nel Corano e nel Vangelo, perché sono entrambi parola di Dio. Amen.